alcuni consigli quando ti assenti dalla tua casa avvisa solo le persone di fiducia e concorda con uno di loro che faccia dei controlli periodici nei casi di breve assenza lascia accesa una luce o la radio in modo da mostrare all'esterno che la tua casa è abitata in commercio esistono dei dispositivi a timer che possono essere programmati per l'accensione o lo spegnimento a tempi stabiliti sulla segreteria telefonica registra il messaggio sempre al plurale la forma più adeguata non è siamo assenti ma in questo momento non possiamo rispondere in caso di assenza adotta il dispositivo per ascoltare la segreteria a distanza non lasciare mai la chiave sotto lo zerbino o in altri posti facilmente intuibili e vicini all'ingresso non far lasciare biglietti di messaggi attaccati alla porta che stanno ad indicare che in casa non c'è nessuno se hai degli oggetti di valore fotografa lì e riempi la scheda con i dati considerati utili in caso di un furto il documento dell'opera d'arte ad esempio conserva con cura le fotocopie dei documenti di identità e gli originali di tutti gli atti importanti progetti contratti ricevuto fiscale